Siamo tutti pronti per partire, ragazzi! Coraggio! La Cina ci sta aspettando! Via! Evvivo! Ho creato il più bel destriale alato di sempre! Basta! La smetti di darti aria e sei insopportabile! D'altronde è il ministro degli animali domestichi! Abbiamo capito! Non te la tocca nessuno il tuo paparino! Forza! Portaci a destinazione, sani e salvi! La prefettura di Dao, nella provincia dell'Ounan, dista oltre 7000 chilometri! Andando a questa velocità, arriveremo a destinazione non prima di sera! Scusa, ma se non ricordo male, tra la Cina e il Giappone c'è il mare! E se a metà strada i nostri animali dovessero stancarsi... Il mare non è un problema! E per spiegarvi il motivo ho anche scattato una bella foto satellitare! Nobita! Come mai il Giappone è attaccato al continente? È semplice! Siamo nell'era glaciale! Quando la Terra si raffredda, i ghiacci si espandono e le acque si ritirano! E se il livello del mare si abbassa, la superficie di terraferma aumenta! Quindi possiamo fare una sosta in qualunque momento! Coraggio! Spostiamoci sul mare! Così potremo goderci il panorama della costa! Sì! Doraemon, il film! Dal cinema! Miau!